Weee! Non fare la banana flambeee! Da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice CREATOR! Clicca in basso a destra sul tasto supporto a un creatore ed inserisci XIUDERONE! DAIE! Weee! Bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video! Io sono XIUDER e ragazzi anche oggi grandi, grandissime novità per quello che riguarda i prossimi giorni di Fortnite! Insomma ragazzi la settimana numero 4 se n'è già andata! Alla grande sono sicuro che la maggior parte di voi avrà completato quasi tutte le sfide perché purtroppo è ancora baggata quella dove dobbiamo sopravvivere agli avversari però ragazzi vola davvero di brutto! Nel video di oggi però ragazzi parleremo dell'argomento più interessante che voglio spiegarvi con calma e bene ovvero sia la possibilità anche per te di diventare un creator anche se non hai tanti iscritti sul tuo canale! Ti spiegherò tutto! Parleremo anche se avremo tempo delle skin segrete c'è ancora qualcosa che non è stato rilasciato nelle nello shop di Fortnite e ovviamente non mancheranno un bel po' di leaks per tenervi sempre aggiornati sul dietro le quinte! Voglio però ringraziarvi ragazzi di cuore per utilizzare il codice creator xyuderone grazie a tutti quelli che mi supportano quando fate le shoppazzate di prepotenza grazie anche per iscrivervi al canale e soprattutto non dimenticatevi di attivare la campanella per non perdere le notifiche dei miei video e delle mie live la prima ragazzi dai dai raga che ve lo dico a fa la domandina la domandina ve la devo fare ragazzi ed è una domanda un po' nostalgica se devo essere sincero qual è l'arma che ti manca di più tra ovviamente quelle che sono state tolte ne abbiamo viste veramente tantissime inserite, tolte, reinserite, ritolte la mia ragazzi sebbene io amo allo spasmo proprio il lanciazucche la mia arma preferita che mi manca è la mitraglietta tattica veramente una potenza over power cioè gli entravi con un bump e poi ratata e te lo facevi proprio easy 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 dimmi qual è quella che ti manca di più a te mi raccomando qua sotto nei commenti che ci tengo un casino ma quindi ciancio alle bande e bando alle ciance andiamo subito a vedere quello che sarà la schermata di caricamento che ci verrà regalata al completamento delle sfide della settimana numero 4 speriamo che fixino il più brevemente possibile il bug della sopravvivenza agli avversari ma andiamo a parlare ragazzi invece dell'argomento davvero serissimo il concorso creatore Matt è stato reso ufficiale pochissime ore fa parliamo davvero del tardo pomeriggio di ieri quindi intorno alle 18-19 e è una notizia freschissima che cosa vuol dire? che cos'è? allora Epic Games ha creato per la prima volta in assoluto la possibilità di inserire in una modalità a tempo limitata una vostra creazione stiamo parlando ragazzi della possibilità di far giocare milioni e milioni di persone a qualcosa che hai creato tu ci sono ovviamente ragazzi delle regole da seguire delle cose da sapere innanzitutto nella descrizione troverete il richiamo il link ufficiale per andare nella pagina di Epic Games principalmente per leggervi il regolamento perché ragazzi è molto importante in poche parole ragazzi è la prima volta che non sarà Epic Games a proporre una modalità a tempo limitata loro dicono che ci sono alcune linee guida che è buono seguire diciamo proprio la base allora il gioco deve essere ovviamente un'esperienza multigiocatore che deve essere giocabile minimo da 4 giocatori e massimo 16 giocatori quindi pensatela in questo modo ci sono delle raccomandazioni che vi consigliano vivamente di seguire diciamo create qualcosa che possa rientrare in queste 4 modalità che vi dico 4 vs 4 vs 4 vs 4 quindi 4 squadre da 4 che si scannano di prepotenza 2 squadre da 8 8 contro 8 4 vs 12 ma vi consigliano fortemente di avvantaggiare e non poco la squadra da 4 o altrimenti ragazzi 15 vs 1 sono le 4 linee guida che vi consigliano vivamente di seguire per costruire il vostro gioco siete liberi ovviamente di provare qualsiasi tipo di gioco a tema e vi augurano di scatenare la creatività dovete mettervi nei panni ovviamente di un giocatore e il gioco a cui volete farlo partecipare deve avere delle istruzioni chiare e intuitive quindi niente di esageratamente macchinoso ricordatevi ragazzi che dovete pensare che sia un gioco che duri dai 10 ai 20 minuti e che deve ovviamente stimolare la rigiocabilità quindi uno che ha giocato vuole e deve rigiocarci ovviamente vi consigliano di dare un'occhiata anche a come loro fanno le loro math quindi magari tenete sott'occhio la salute le armi che ci sono la possibilità di avere delle modifiche in tutto quello che vi può venire in mente l'obiettivo ovviamente è quello comunque sempre di far divertire il giocatore troverete nella descrizione anche un altro link ragazzi che è dove inviare la vostra candidatura dovete avere il vostro id di discord fatevi discord ci vuole un secondo il vostro indirizzo mail e dovete creare un video da mettere sul vostro canale youtube dove si vede dall'alto una panoramica del gioco una visuale generale dell'intera esperienza e ovviamente vi consigliano di fare degli screenshot il titolo del vostro gioco e ovviamente una descrizione avete tempo fino al 9 aprile ragazzi per mandare la vostra candidatura e quindi cosa si vince ragazzi vincerete la possibilità di diventare ufficialmente dei creator di fortnite il che non è assolutamente da buttare via sebbene non soddisfiate ufficialmente i requisiti potrete avere il vostro codice personale quindi ragazzi in culo la balena a tutti e mi raccomando leggete bene il regolamento perché ne vale davvero la pena ma andiamo avanti ragazzi e volevo farvi vedere questa è una cagata raga però mi piaceva troppo questo è come si fanno i chug adesso ragazzi è stato reso noto dall'utente Lowin Fn che sono le banane ragazzi che fanno i chug quindi è un mix tra mele e funghi e sono le banane che con il martello vanno a spaccare le frutte lì la frutta che c'è lì e creano i chug le minchiate di xuder sono sempre all'ordine del giorno ma voglio chiudere invece prima di salutarvi con quello che ancora non è stato rilasciato e che presto vedremo disponibile nello shop forse o scaricabile molto più probabilmente la prima eccola qua la skin della magma ragazzi quindi copertura per le armi che sembra seriamente essere la prima skin epica al prezzo di 900 vbucks una fucilata assurda la seconda ragazzi invece è la skin quella che dovrebbe essere ottenibile con il download dell'applicazione vivox che non è altro che un client di messaggistica tipo whatsapp ancora non è pronta la promozione appena sapremo qualcosa sarete i primi a saperlo magari troviamo anche un modo per prenderla gratuitamente e l'ultimo ragazzi il deltaplano che è lì da un bel po' ancora non è stato rilasciato speriamo che non tardi ovviamente ad arrivare ragazzi io per oggi ve ne ho dette davvero tantissime spero che vi sia piaciuto questo video mi raccomando iscrivetevi in tantissimi al canale codice creator xuderone noi ci vediamo alle 13 in live ciao ciao